benvenuti sul mio canale oggi voglio fare un video particolare sul linktober però vorrei metterlo in chiave un po polemica dato che sono stufa sono veramente stanca sono stufa marcia e questo mio canale parla prevalentemente di lavoro di architettura della vita dell'architetto e quindi direi è venuto il momento di parlarne e approfitto della sfida del link tu perché questa sfida dove si deve fare un disegno al giorno usando la tecnica della china quindi dell'inchiostri per tutti i giorni di ottobre perché arrivato al decimo giorno dove facevo tutti quanti disegni a tema lavorativo mi sono detta che quest'anno doveva essere necessariamente così questo video quindi parleremo delle mie illustrazioni io non sono illustratrice sono un architetto però pian piano mi sto diciamo dedicando a questa altra passione dell'illustrazione e della sperimentazione dei colori quindi per linktober non non utilizzo esclusivamente la tecnica dell'inchiostro ma mi piace spaziare se non mi annoio e quindi vorrei parlare da un lato della professione dell'architetto in particolar modo del professionista che non ha uno studio proprio ma spesso si appoggia ad altri studi come collaboratore e quindi ancora molta strada davanti a sé e quindi voglio essere un pochino polemica parlando delle mie illustrazioni quindi parleremo anche delle tecniche che ho utilizzato per queste illustrazioni e quindi non mi voglio perdere in chiacchiere cominciamo sono solo dieci disegni quindi non ho moltissimo tempo da dedicare a linktober già e tanto se sono riuscita a dipingere disegnare per dieci giorni e quindi non so se ci saranno altri video a te linktober dipende se avrò la forza di disegnare la notte praticamente e questo è uno dei punti che secondo me dovrebbe essere trattato già da subito prima ancora di andare a vedere i disegni che non è possibile cioè ma quale mestiere prevede di praticamente non avere tempo libero oppure io per i disegni dell'inktober dedico più o meno un'ora al giorno quando avevo quest'ora al giorno da dedicare ma praticamente devo dipingere di notte questo già molto scoccia è già questo fa capire uno dei tanti problemi legato alla professione dell'architetto e niente ora passiamo ai disegni ho appena finito di registrare il video io sono la maria cristina del futuro e penso che sia una scelta saggia per raggiungere più persone possibile non annoiarvi con un video lungo un'ora e mezza voglio dividere questo video in due parti quindi questa è la prima parte e la settimana prossima vedrete il resto del video ciao e buona visione eccoci qua il primo disegno è a tema dream sogno allora io ho un canale che si chiama archidream lo sapete tutti quanti ma perché ho scelto questo nome perché sapevo già che sarebbe stato difficile fare l'architetto non non sono mai stata una che ha vissuto nel mondo dei sogni e quindi mi da tutta la vita che mi dico che mi piacerebbe fare l'architetto che è comunque un lavoro creativo e io da tutta la vita che disegno dipingo faccio sculture faccio utilizzo qualsiasi tecnica possibile immaginabile e quindi voglio fare l'architetto archidream ora questo disegno lo so non è particolarmente bello ma rappresenta me che ho il sogno di fare l'architetto ho pubblicato questo disegno anche su instagram e su vari social mi è stato molto contestato perché non è stato molto capito non è particolarmente bello perché l'ho detto non sono un'illustratrice e niente poi mi è caduto anche il pennello quindi ecco non è particolarmente bello punto però su questo mi soffermerò poco però dico che io 38 anni l'architetto mi lo faccio non lo faccio quando mi chiamano per fare lavori di architettura è triste dirlo ma mi chiamano perché sono giovane quindi ci ho stampato in fronte non viene pagata si prenderà poco perché è giovane questo vale sia se mi chiama la signora maria che vuole fare l'appartamento il progetto del suo appartamento sia se mi chiamano lo studio di progettazione per una collaborazione io non so da che nasce questa cosa però a 38 anni Renzo Piano e Foster avevano già ampiamente fatto progetti megagalattici come per esempio il Pompidou a Parigi quindi non so che diavolo c'ha la gente in testa che mi chiamano perché pensano che io non mi faccia pagare o comunque faccio risparmiare loro qualcosa non ne ho idea e su questo aggiungo vabbè avevo detto che ci mettevo poco non è vero bogia la cosa ridicola è che quando sono gli studi di progettazione che mi chiamano e quindi pensano che io non mi faccia pagare tanto e spesso è così pur di avere la possibilità di lavorare con persone con più esperienza la cosa ridicola è che la signora maria che va dall'architetto senior con il portafoglio pieno in mano tieni fammi il progetto poi si trova gli stessi progetti miei i stessi progetti che ho realizzato io con le mie stesse idee però chissà per quale ragione ci deve essere l'intermediazione di un architetto senior per pagare il giusto questo è una cosa pessima sia per l'architetto senior che poi deve come dire diluire il suo guadagno sia per me che devo per forza andare a cercare lavoro presso altri studi parlo di me però questo vale un poco per tutti cioè a meno che non hai uno studio avviato di un genitore io non ho colleghi non ne conosco nemmeno uno che abbia dei lavori propri senza un'intermediazione non è da parte di un altro architetto che ha più lavori che ha commesse con gente che è disposta a pagare il giusto e quindi sappiate voi che andate dagli studi di architettura megagalattici che spesso siamo noi altri che facciamo il disegno i professionisti che stanno dietro a quei studi megagalattici sono prevalentemente imprenditori non li fanno proprio i progetti perché devono andare a trovare altri clienti quindi hanno tante altre mi dispiace dirlo partite iva che lavorano per realizzare i progetti e niente quindi ma perché non saltate un passaggio perché non andate direttamente dagli architetti che non hanno lo studio megagalattico ma lo so andate a cercare sul sito internet sui siti internet o su portfogli di lavori internet se ne cade di giovani professionisti giovani fra mille vergolette perché io ho 38 anni però niente appena mi vedono ma quanti anni hai ma ti sei laureata niente vabbè passiamo avanti se no non finisce mai questi disegni hanno molta polemica qua dietro c'è tanto questo è il secondo giorno spiders e niente che mi devo dire diciamo che questi disegni li utilizzo anche per esercitarmi in cose che io non so fare e infatti sia il precedente che questo qui me ne sono fregata che non sono abituata a fare i toni della pelle e gli incarnati e non sono molto abituata a disegnare proprio la figura umana e quindi ne sto approfittando per imparare a spratichirmi ecco queste mani sono un po verdastre infatti ma ne vogliamo parlare del tema spiders e questa illustrazione io ho già detto che non ho tempo libero non ce l'ho ora che bene o male riesco a mantenermi da sola eccetera eccetera ma non ce l'avevo nemmeno quando facevo solo solo l'architetto io sono anche docente e niente non è che sono anche docente ora sono solo docente e sto vedendo come fare per avere la doppia professione quindi se vedete questo video sappiate che sto ringranando perché non è possibile mantenersi con questa faccia perché poi i progetti a meno dai professionisti senior per cui ho lavorato sono sempre stati riconosciuti come di qualità per cui vi dico non perché sono egocentrico ok ma sono piuttosto brava ecco nonostante io abbia provato a fare solo l'architetto e abbia cercato di vivere di quello e la mia situazione è questa cioè lavoravo pure 12 ore al giorno pure la notte pure il sabato e la domenica ora grazie a dio il sabato e la domenica lo dedico a youtube che è un hobby anche questo no money ecco nonostante io ci abbia sempre buttato un sacco di tempo niente i risultati sono che squattrinata all'enesima potenza talmente tanto squattrinata che ho avuto la preoccupazione di ammalarmi mentalmente cioè veramente ho avuto dei momenti veramente duri dove io pur avendo anche cinque studi di progettazione più diverse altre signore marie che mi chiedevano il lavoro mese per mese quindi pensate cinque studi contemporaneamente dove ovviamente non potevo far sapere all'altro che lavoravo per altri studi quindi ora tutto questo si è fermato non sta succedendo questo in questo momento fortunatamente però pur vivendo quella situazione non riuscivo ad arrivare a fine mese stavo cercando di sganciarmi dal vivere a casa di mamma però quello mi ha portato ulteriore stress quindi non so questo è questo disegno l'ho fatto mi sembra con gli inchiostri anche quello precedente ma vedremo che ho usato anche altre tecniche comunque non credo ci sia altro da dire su questo tema che siamo squattrinati mi sale il sangue alla testa terzo tema del linktober era pat che sentiero il disegno che mi è venuto è questo è anche qui ho usato degli inchiostri questo sembra che non riguardi il lavoro ma in realtà si è proprio il percorso che io ho vissuto inizialmente alle medie elementari non ero molto brava a scuola nonostante mi impegnassi tanto sono migliorata alle superiori sono andata benissimo ero una delle prime della classe all'università anche molto bene sia la triennale che la specialistica quindi diciamo che il mio ragionamento è stato ma come mi faccio un sederino quadrato ecco faccio tutto quello che la società mi ha chiesto di fare andare bene a scuola prendere buoni voti sia alle alle scuole diciamo dell'obbligo sia all'università ho preso anche dei master ho preso 110 va bene ho fatto tutto quello che si doveva fare ho fatto la gavetta io ho almeno sette anni di gavetta dove veramente mi sono fatta un cuore tanto ho lavorato con un sacco di gente con un sacco di professionisti che mi hanno riconosciuto l'abilità magari non in fase iniziale però dopo sette anni di gavetta sono diventata brava e me l'hanno riconosciuta come ho chiesto di essere stipendiata non ero più brava non ero più necessaria e qualsiasi mio studio non parlo solo di studi di architettura parlo di imprese parlo di società di servizio o mi ha chiesto di rimanere a partita iva oppure ancora peggio ancora più diciamo strazi va bene non lo dico detto mi hanno assunto per un periodo brevissimo quattro mesi e dopo quattro mesi dove ho portato a termine tutto dopo quattro mesi mi hanno chiesto di ritornare a partita iva non ero brava ma allora non ero brava scusami ma mandami via non mi chiedere di ritornare a partita iva perché c'è proprio un'incongruenza ma tu stai parlando con una cretina secondo te vabbè oddio è molto difficile parlare di questi argomenti scusatemi se sono meno british del solito però la gente pensa di essere come dire intelligente e parlare sempre con dei deficienti evidentemente questo è il punto non lo so ci ho scritto scema in fronte una volta che nessuno dei tanti studi imprese società di servizio non mi hanno rinnovato nei contratti né mi hanno assunto né ma tempo né a tempo indeterminato non facendocela più poi c'è quella fase dell'architetto in cui c'è il dramma dove l'inar cassa ti chiede il doppio dei minimi ne ho parlato in qualche video andatevi a riprendere i video miei riguardanti la partita io eccetera eccetera e quindi che cosa ho combinato ho cambiato mestiere ho cambiato mestiere sono felicissima non credevo nemmeno che mi piacesse così tanto però penso che faccia parte dell'essere multipotenziale un giorno farò un video anche se se ne cade internet su questo fatto della multipotenziale e quindi ti è eh mo me lo vieni a dire sì che la laurea è inutile eh sai di chi sto parlando sai sai che sto parlando di te che viene a vedere i miei video e ti impicci eh col cavolo la laurea mi ha salvata ragazzi non vi fate dire che la laurea è inutile perché generalmente chi ve lo dice è perché una laurea non ce l'ha non si è mai iscritto all'università o si è iscritto all'università non ha concluso gli studi perché guarda un po bisogna studiare per prendersi una laurea che stranezza è difficile prendere una laurea infatti l'italia sta un poco indietro sul numero di iscritti all'università sto divagando passo a un altro disegno il tema numero quattro è inciampare e non mi piace moltissimo come l'ho rappresentato mi piace il significato vabbè comunque qui mi sto ancora impuntando sul fatto che devo imparare a fare le figure umane è impossibile se non non si può andare avanti quali illustrazioni sono senza figure umane insomma e quindi continuare ad esercitarmi il tema era inciampare volevo far un signore che un lavoratore in realtà ho messo in giacca e cravatta proprio perché volevo intendere che fosse un lavoratore che camminando si trova su un precipizio sta per cadere sul precipizio ci sono un po di scritte a lungo la stratigrafia della diciamo del costone di questa montagna si la prospettiva è sbagliata ma non ci voglio mettere più di un'ora questi disegni l'ho sempre detto dall'inizio di link tober questo è il quarto anno di inktubber rassegniamoci su questo piano piano migliorerò allora queste ad acquerelli come dicevo sui costoni di questo precipizio ci sono delle scritte ti pago invisibilità ne vogliamo parlare ti pago invisibilità poi c'è scritto finta finta partita iva già ne ho parlato sfruttamento lavoro grigio e questo non ne ho mai parlato del lavoro grigio anche se fa pandan con quello che c'è sopra lavoro in nero e finti contratti ah che bello li ho fatti tutti 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 questi passaggi li ho fatti tutti quanti e questa illustrazione nonostante non sia stata proprio brava a rappresentare l'inciampo sembra più una persona che viene sparata e si finisce all'indietro va bene però mi piace un sacco il fatto che ci siano delle persone giù che sono cadute quindi questo magari si è salvato ma molti altri stanno a chiacchierare a galleggiare su questo mare di gente che viene sfruttata pagata a nero pagata invisibilità quindi mi piace un sacco questo concetto prima o poi lo riapprofondirò per altre per altri disegni allora di pacco invisibilità c'è da dirlo non abbiamo esperienza quindi ovviamente l'unica moneta di scambio è il fatto di avere una buona pubblicità che fra l'altro è una grossa stupidaggine non è vero non è vero assolutamente che poi la persona che prende il lavoratore lo paga invisibilità ma perché che fa va dagli amici a dire né ma lo sai che ha avuto un grande architetto ha fatto delle opere incredibili vieni conto lo consiglio ti passo il numero di telefono ma quando mai i primi che non ti pagano sono i primi che ti fanno una pessima pessima pubblicità dicono l'elenco delle cose che non sono state fatte bene ma fatte bene in che senso queste queste persone che ti chiedono i progetti già hanno il progetto in testa e vedono te il lavoratore giovane fra virgolette quando si finisce già l'università non si è giovani non si è giovani uscendo dall'università perché hai studiato come minimo 15 anni ma di più solo se hai fatto una triennale sono 15 anni sono di più e quindi niente ti pago invisibilità è una leggenda metropolitana perché quelli che ti pagano meno tecnicamente sono quelli che buttano fango sul tuo operato o al massimo cercano di rifilarti altri progetti a gratis quindi non lavorate gratis ho fatto un video su questo argomento andatevelo a ripescare perché è molto attuale non so perché guardo il microfono invece della telecamera va bene non fate fatevi pagare invisibilità no poi finta partita iva conosco pochissimi architetti che sono stati messi a posto e invece di pagare in nero conviene molto di più la finta partita iva che significa il lavoratore apre la partita iva come architetto sto parlando prevalentemente degli architetti in questo video però sono sicura che questi discorsi valgono per mille altre professioni professionista apre la partita iva quindi fattura al suo datore di lavoro però non ha la possibilità di lavorare contemporaneamente altrove quindi c'è l'obbligo di stare fisicamente nello studio di altre persone studio impresa uffici in generale per altri professionisti però devi fatturare quindi deve versare le tasse su quello che guadagni che notoriamente non sono più di 400 500 euro al mese può capitare anche di fatturare 1400 euro 1500 euro in rarissime occasioni e poi il datore di lavoro non ti versa i contributi ti manda via dall'oggi al domani per qualsiasi ragione personale o non personale così dall'oggi al domani e tu rimani pure con la partita iva aperta perché poi a un certo punto vedi che molti vogliono preferiscono lavorare così perché risparmiano e quindi finte partite iva lavori solo per una persona e se osi dire che hai altri lavori ti caricano ulteriormente di lavoro così ti fanno desistere dal fare altri lavori molto molto umiliante devo dire la verità a meno che non c'è un accordo fra le parti se non è destinato poi a un'evoluzione dove magari si diventa soci di questo studio impresa o società oppure se non si diventi dipendente alla fine ci guadagna solo l'imprenditore perché non paga nel tfr nei costi della previdenza quindi la pensione tutta a carico del lavoratore che deve pagare in arcassa guadagna o non guadagna ho fatto un altro video anche su quello e va bene penso di aver esaurito tutto il lavoro grigio lavori in nero per una parte del compenso quindi magari decidi lavorare dieci ore a settimana in realtà nei lavori di più insomma più di un full time è una parte del compenso e fuori busta paga in nero questo è il lavoro in grigio i finti contratti e sono i finti contratti sono quei contratti dove non vengono dichiarate le ore effettive di lavoro mi è capitato sempre quei disgraziati che poi non ero abbastanza brava e dovevo ritornare a partita iva non solo questo mai che poi quelli non mi hanno partato e pagato nemmeno la non mi hanno pagato nemmeno il tfr prima o poi se ho voglia per quattro mesi non so vedi mi costringono a rinunciare i miei soldi praticamente vabbè venti contratti sono questi appunto che ti dicono di lavorare due tre ore al giorno invece nei lavori più di otto a me è capitato anche di fare dodici ore pure in trasferta in altre regioni d'italia ritornare in giornata per poi ritornare il giorno dopo a lavorare in ufficio non a distanza ovviamente e sono forse i peggiori non lo so secondo me non c'è il limite al peggio questo video durerà due ore e mezzo siamo soltanto al disegno numero 4 andiamo avanti disegno numero 5 map mappa mi piace un sacco questo disegno anche se le mani sono spostate quasi dovrebbe essere una testa però c'ha dei colori molto belli molto sgargianti mi piace un sacco e nelle indicazioni da notarsi la mappa con il vulcane con il vulcano la barchetta e l'indicazione dream job che insomma significa il lavoro dei sogni devi passare praticamente guadando un fiume arrivando sull'isola del tesoro praticamente con una barca cercando di evitare la lava è tutto qui e poi ci sono i cartelli no work freccia a destra dream job che è quello della mappa che è molto molto vicino al creepy job che praticamente il lavoro schifoso e l'ho fatto apposta perché un po perché il lavoro dei sogni molto spesso è vicino al lavoro schifoso nel senso che quando il lavoro ti piace è difficile staccarsi dal computer almeno per quanto riguarda me io non riesco a staccarmi dal computer sento proprio un dispiacere dove fare cose come mangiare dormire una volta che mi stacco da un lavoro che mi piace molto e questo è anche un incubo perché poi se il lavoro dei sogni coincide con un lavoro orribile perché magari viene sottopagato non ci sono orari gli orari sono flessibili solo a favore di chi da il lavoro allora si corre il rischio di odiare il proprio lavoro perché è arrivato a un certo punto anche se il lavoro dei tuoi sogni bisogno di una pausa oppure proprio una pausa staccarsi fare una vacanza e magari nel creepy job la vacanza non è contemplata oppure te lo dice il giorno prima per il giorno dopo in modo che tu sicuramente o spendi una cifra blu oppure te ne puoi andare al mare sotto casa sotto le fabbriche io abito a san giovanni praticamente a portici va bene quindi te ne vai sotto casa se no se vuoi andare alle maldive devi spendere tutti gli stipendi futuri dei prossimi dieci anni creepy job ecco tutto per questo disegno ho usato i cura età che che sono degli acquarelli giapponesi che sto provando testando prima o poi ci farò un video sono molto piacevoli questo non è nemmeno carta al cento per cento potone semplicemente carta carta impura cellulosa quindi bellissimo ed ecco la fine del video spero che vi sia piaciuto la seconda parte la avrete fra una settimana dio piacendo spero di farcela e se siete arrivati fino a questo punto del video io vi ringrazio vi chiedo di sostenere il canale iscrivendovi attivando la campanellina delle notifiche e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao